Di solito rimane fermo in una posizione dai 3 ai 8 mesi aspettando che il muschio cresca sotto le ascelle Quindi è già passato 18 mesi? Esatto, non si lava da 8 anni e mezzo L'ultima volta che ha visto il sapone è stata la prima comunione L'uomo pianta, plant man Può guardare la pianta, pare vera a queste pianta qui No aspettate, tu non ti tiri su, è impossibile C'ho in mani